è facile ehi, i raspi si muovono perchè questi raspi non ci lasciano passare? perchè non ci lascia passare? benvenuti nel campo delle stelle cadenti stelle cadenti? non vede nessuna stella oh, questa è la stella oh, queste stelle cadenti? si, stanno abbandonando la costellazione e il maestro delle stelle ha bisogno di voi per farle ritornare se le stelle che cadono veloce riuscite a catturare il maestro delle stelle vi lascerà passare?